Taglia il traguardo della ventesima edizione la sagra della polenta di Montecchio che dal 19 al 22 settembre dà il suo benvenuto all'autunno con quattro giorni di stand gastronomici e intrattenimento in Piazza della Repubblica. La prima sera la facciamo al sugo di pesce che è una novità possiamo dire perché sono pochissimi anni, due o tre anni che la facciamo. Poi abbiamo la polenta con salsiccia e funghi, la polenta con fagioli e salsiccia e la polenta bianca perché delle volte con i bambini preferiscono il bianco ci mettiamo un po' di olio, un po' di formaggio e loro sono contenti così. Ogni sera c'è uno spettacolo, dal giovedì c'è una compagnia teatrale, il venerdì c'è un gruppo con un DJ, sabato e domenica ci sono balli da balera, waltzer con due gruppi importanti come Fabrizio e Riccardi e poi dopo ci sono i giochi per i bambini nella zona limitrofa lì vicino al campo, nel campo di gioco e poi sabato e domenica dal pomeriggio iniziano i mercatini. Sono vent'anni che c'è questa iniziativa, la Proloco, che noi ringraziamo perché è un momento in cui diciamo si socializza, si mangia bene, si sta insieme e ovviamente è un impegno importante di tutti i volontari che danno una mano ed è una delle tantissime iniziative che su Vallefoglia ci sono dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno. Grazie.